Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su Destiny Questo è l'inizio di una nuova serie che avrei intenzione di portare Avevo voglia di portare qualcosa di difficile ma che potessi fare anche da solo Cosa c'è di più difficile quindi di portare il calanotte in solo E' una cosa che richiede pazienza e meticolosità Quindi voglio provarci e vedere se riesco a finirlo Perché non vi prometto che riuscirò a finirli tutti Perché ci sono diversi calanotte che sono abbastanza impossibili da soli Cioè quasi impossibili ve lo dico io Perché ad esempio avevo provato anche un'altra volta a fare questo Ma era Rasputin Rasputin in cui l'inizio è una roba immonda fare da sola Poi tutto il resto è facile Però l'inizio è impossibile Quindi spero che vi piaccia Adesso vediamo se riusciamo a finire almeno questa E vi ricordo che a 10 like ci sarà un altro video bonus di Destiny E vi lascio al video Intanto cosa abbiamo qua? Modificatori attivi Abbiamo bracci dell'arco Perfetto Armi di legere Perfetto Gioccoliere Sì e no Ed esposizione No esposizione no Vi prego Sono tutte abbastanza buone in realtà Certo Anche loro hanno bracci dell'arco Morite tutti Oh cazzarola Yuhu Ciao Mi sa che i danni con Supercell A qua li distruggo proprio Eh non l'ho preso Dai Vabbè che non gioco da tanto E non Non ho tanta mira ultimamente Però non prendere la pancia dei hobgoblin È grave eh Molto grave Cazzo non riesco a colpirli Sarebbe troppo bello Io vi colloco il segnale Beh fammi collocare il segnale Dai Guardalo che bello Vieni Vieni su Sorgitorretta Tanto non la uso Perché ci morirei Ah là ci sono delle verdi Grazie Grazie mille Au Aminotauro Vedi sta buono Stai buono Pito Aminotauri I danni di Supercell Devo ricordarmi che sono da solo E questo Ecco la notte Vabbè che non c'è più Yuhuu Venite qua dai Dai davvero Ultimamente ho troppi problemi Guardalo là Che hobgoblin là Bello carino Carino lui E morici però Sei carino ma Devi morire Uno a uno Morite Mi raccomando Non mi si ricarica il colpo Dai Che mira del cazzo Sentimi Tu vedi di morirci male Però è vero Non hanno danni ad arco Quali si che hanno danni ad arco Però Si è votellatizzato in un colpo Ah ma io non ho problemi di giocogliere Questo qui con i doppi colpi Si ricarica da sola Le doppie uccisioni Supercell Adatto a quel Questo calanotte C'è scritto Usa supercell O sei nei guai Anzi O sei proprio un coglione Guarda come si ricarica da sola Ok Finora è una cagata Mostruosa Cioè Forse ho iniziato questa Questa Serie Sempre che lo volete Con una cosa Troppo facile Tra parentesi Se questa La faccio una serie Non Non vuol dire che La finirò sempre Da solo È possibile che fallisca È molto probabile Invece Devo ricordarmi Che c'è anche I colpi di arma Primaria E quelli fanno Ai ai Ecco la seconda parte Sono curioso di sapere Cosa c'è là sopra In realtà Non penso che ci siano Oddio Non mi viene Il nome I corrotti Ecco Non penso ci siano Però Darebbero una mano Forse Sì Darebbero una bella mano Questa Li cecchiamo tutti Salve Salve Ok Non mi ricordavo che scomparisse Qua Oh porca troia Mitraglione Tocca a te Non sarai Fortissimo Ma In realtà Mi sa che fa più male Supercell A vedere 1500 Donne Tu invece 1900 No non è vero Però spara più lentamente E ricarica più lentamente Ovviamente Salve Ah sì Siete qua sopra Vero Ciao Tutto in fin di vita Neanche una volta L'ho ucciso Ok L'ho usata bene Tu fermati lì E muorici Perché voi non avete la testa No 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 Per un momento Mi sono preoccupato di cadere Ah è vero Io non Non recupero lo scudo Quindi Anche se era Al retro Di tanto Non c'è molto Molta differenza In realtà Quanti siete qua Vabbè Rifacciamo la stessa cosa Di prima Sì ma colpiscilo Vieni qui Vieni qui Ricarica Ok È andato anche lui Ciao Bellocchietto Quando cazzo Ti faccio fuori Non so se Mi one shot Non credo Intanto io Non mi faccio colpire Neanche quanti danni faccio Madonna Un cazzo In realtà Non così pochi Ehi Se magari Io colpisco Quando ho finito Oh Ciao Oh no Ne stanno spawnando Altre Facciamolo fuori Prima Cazzo Da dietro Questo non me lo ricordavo Ma dove sei No Non dirmi che sei invisibile Quanto stai? Ma Stai facendo lo stesso Mio giro? Ma Sei rincoglionito Allora Ciao bello Come stai anche tu? Non è che mi deropaste Qualche munizione verde Sai com'è? Deropaste Mi raccomando Imparate l'italiano Da Andrea Rebeck Che è il migliore Di tutti Come parla lui L'italiano Parla nessuno Salve Salve Porca Tutana Porca Trota Fuga strategica No È una ritirata Codardica Yuhu No No Devo ricaricare anche questo E morici Tutto devo ricaricare Dovrà aver finito Anche la seconda parte Sto cazzo Sti grangazzi Yuhu Salve No scusate Io al retro Vieni qui Vieni qui Sì Fulmini Andate Attaccate Oh cazzo Anche loro Stanno attaccando Oh goblin Vieni fuori Piccolino Qua sopra Ma non abbiamo trovato Una munizione viola Praticamente Uno Che cazzo Ce ne vanno due qua No veramente Cazzo fate Qui in due Anche Perché non avete Ropato una cazzo Di munizione viola Cioè Ho usato solo La primaria La secondaria C'è giocoliere Dai Ok In quanto pare Alla parte prima Non c'era un cazzo Di nessuno Qui ci sono I soliti minotauri Che avranno Tutti lo scudo Eh Ha Ha Dai Girati Ha Che bello Concarmi Che si riprendono Le munizioni Dai 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 Aia Vieni qui Vieni qui Vieni un po' più vicino Dai di solito Siete attaccate Come dei bastardi Ah no Solo perché Non avete la testa È vero Ah Mano massacrato Mano massacrato Prima morte Yee E oserei dire Prima di tante morti Dai Girati Cucciolo Vabbè Ucciderò tuo fratello Che mi ha visto Vabbè Userò tutti i proiettili A cecchino Che cazzo Me ne frega Deciso Faccio una pazzia Nonostante c'è il boss Qua davanti Mi faccio fuori così Perderò un sacco di vita Sì ma fallo fuori Quanti cazzo siete Non mi ricordavo così tanti Non so perché Vi faccio fuori una alla volta E mi vengono sempre addosso E poi in tre Vabbè Gli massacri In poco tempo Soprattutto senza scudi Ma hanno tolto tutto lo scudo Intanto Non per dire Non ero morto fino a quel momento Ma qua Parte qui Che li massacro Appena spawn E mi faccio Munizioni praticamente Infinite Cioè Davvero In questo calanotte C'è scritto Usate supercell al zalo O siete dei coglioni Perché Ma si ricarica sempre Ecco Forse adesso Amore Ma non l'avevo appena usata La super io Com'è? Ci ho già recuperato la super Wow Ciao Io ti passo sotto Ok io direi di Fare le cose Tatticamente Non fare i deficienti Uccidiamo Tutti quelli che spawnano lì Se con qualche fulminetto Colpisce Il boss Tanto meglio Non ci facciamo colpire Anche perché Se cerchiano Siamo finiti Questo qui intanto Riesce a colpirmi Non lo stesso È uno stronzo Lo so È uno stronzo Ed è riuscito a uccidermi Madonna Sarà una rottura I coglioni E via Che dolore che fa E non c'è neanche le cose A fuoco Se non ci sono i danni A fuoco aumentati Forse sta più indietro Voi da dove siete sbuccati Scusa L'ho fatto fuori tutti Eeeh Ma quando mai ci riuscirò? Soprattutto se non recupero vita Eh Questa è Una bella domanda In realtà basta recuperarmi La vita Sprecare tempo E recuperar vita Finché non Perché qua Non sbucano tempo Ma bensì sbucano E vabbè Ma tu c'hai una mi A parte le esplosioni Ma c'hai una mira da Madonna Sbucano quando hanno Un po' meno di vita Ma chi è che è ancora vivo? Chi è che mi ha lanciato la granata? Tu Che cazzo fai ancora vivo? E morire e andartene a fanculo Sbucano Sbucano è l'ora di nascondersi cazzo stanno già arrivando e adesso devo farli fuori dov'è? dov'è il boss? ok dovete darmi un po' di munizioni per il super cella per dopo nel caso quindi eliminiamoli con tutte le armi possibili intanto il boss è qua quanta vita dovrebbe avere? eh si all'incirca è giusto c'è ancora qualcuno qui in giro ok siamo quasi a metà no non avevo ricaricato cazzarola che scemo a metà dovrebbero partire i gialli e i gialli sono cazzi eccoli e si sono da far fuori subito quelli di là verranno da soli uno alla volta magari c'è il boss boss vai di là grazie non dovrebbe esserci anche un minotauro eccolo là infatti sto facendo le munizioni no quello no goblin il minotauro forse è la seconda ondata mi ricordo male eccoli che arrivano ok qui dovrebbero esserci due paia di i minotauri questa è la prima forse è meglio usare questo ce ne erano due ah eccoli qua infatti uno è scomparso non so se dovessi è andato dovrebbe esserci un altro minotauro ancora sa che lì è al centro scusate eh andavano a paia scusa qui compaian tutti a paia dove cazzo è andato quel minotauro l'ho ammazzato con i fulmini può essere quanta vita c'hai dovresti avere ah no ce n'è un altro è qui eccolo là il minotauro minotauro mio minotauro vieni qui dai non rompermi i coglioni e trasportati da me non voglio battere il boss sono già a buon punto dove cazzo stai? eccoti è andato boh ok pronti anzi vado a prendere un po' di munizioni verdi e adesso si balla eccoli forse ho sbagliato tempistica anche perchè mi sta attaccando nel punto sbagliato eccolo l'inminotauro cazzo questo devo far fuori subito che devo ricaricare no no parca devo ripetere tutto parca vacca ok ci siamo quasi di nuovo a quel punto di prima ed è un bel po' che sono qui in realtà sa che ne è se non ce la faccio adesso non ce la posso più fare anche perchè per questo metodo ci vale un bel po' non sono mai morto di nuovo però ecco il cazzo no allora incominciamo con supercell e iniziamo a eliminare quelle no che cazzo c'ho dietro niente visibile no li torniamo invisibili perchè non posso permettermi di perdere adesso ok i problemi sono i minotauri devo tenere la granata per loro ok uno è andato ce ne sono altri due uno mi sa che è lì ciao no posso posso permettermi di perdere ora ho tre proiettili ma scherziamo i verdi scusa non mi hanno più troppato i verdi ma va è impossibile oh cazzo per fortuna mi sono mantenuto la granata non mi troppano le verdi non voglio comprare cioè prenderle con le la sintesi mi servono le verdi perfetto ce la posso fare ora no c'è che sto qua un attimo ma che non le volevo usare volevo usare il tradior oddio no ma visto vuole lanciare la granata no 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 non fare la scimata adesso aia dai che ce la facciamo dai che se ce la fai ce la fai si è andato sono morto solo no non due volte perché sono morto anche là tre volte non male per la prima volta da solo eccoci qui vediamo cosa si vince belli belli grazie grazie non mi dice neanche quante volte sono morto posso barare quindi davvero non ti scrive quante volte sono morto tempo 49 minuti ma però ci ha messo solo 49 minuti